Ha distrutto gran parte della discoteca estiva l'incendio di probabile origine dolosa che venerdì scorso è divampato in due momenti diversi in due zone opposte della discoteca La Folì a Marotta di Mondolfo. Proseguono quindi le indagini da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco per cercare ulteriori indizi utili a individuare gli eventuali responsabili del rogo. Comandante avete fatto ulteriori sopralluoghi in questi giorni? Questi giorni era previsto un sopralluogo per venerdì ma purtroppo le avverse condizioni meteorologiche ci hanno impedito di fare ulteriori controlli e nei prossimi giorni sicuramente dovremo tornare per repertare altro materiale nelle zone degli inneschi però per il momento non ci sono ulteriori particolari novità rispetto a quanto è emerso in precedenza. Insieme ai carabinieri di Marotta comandati da Antonio Barrasso nei prossimi giorni verranno visionate le immagini dell'incendio che abbiamo trasmesso in diretta sul canale 117 del Digitale Terrestre.